Ciao a tutti, sono Gigi, vicepresidente della San Salvario, siamo alla quarta edizione del Mundialito, quest'anno oltre al calcio a 7 che ci ha sempre visto i protagonisti abbiamo fatto il primo Mundialito di Beach Volley che si vede laggiù, 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 siamo circa più di 300 persone, siamo partiti stamattina alle 11, andremo avanti fino a stanotte alle 2, griglie aperte tutto il giorno, gente che gioca, si mangia, si beve, siamo in tantissimi, ci stiamo veramente divertendo, non solo sport però, solo sport, non solo sport, solo sport, giocato, bene, pulito eccetera, ma stare insieme, l'idea è che più squadre possibili stiano insieme fra di loro, si conoscono, abbiamo anche la squadra dei rifugiati, grandi quest'anno, abbiamo la squadra delle girls, quindi siamo in tanti, siamo proprio presi bene, l'idea è sempre stare e crescere, tutto ensemble.